Crack popolari, il fondo indennizzo c'è, ma le richieste latitano. È l'allarme lanciato dal sindaco di Vicenza, nonché presidente della provincia, Francesco Rucco. Fondo che interessa nel solo Vicentino 80.000 persone, di cui 40.000 residenti nel capoluogo. Ma a tutt'oggi sarebbero solo 13.000 i vicentini che hanno cercato informazioni sul portale dedicato. Novità della legge di bilancio del governo approvata a fine anno prevede in merito al fondo di indennizzo una proroga del termine per la presentazione delle domande al 18 aprile, oltre a procedure semplificate per l'accesso al fondo. A quanto pare però non tutti i vicentini ne sarebbero a conoscenza, serve una campagna informativa. Da qui la lettera di Francesco Rucco, da collega a colleghi sindaci, per invitarle a dare il massimo risalto alla notizia attraverso ogni canale informativo a disposizione delle amministrazioni. Un impegno al quale sono chiamati, viste le ricadute sociali negative create dalla crisi delle banche e che per prime le amministrazioni si trovano a fronteggiare. È un diritto, scrive nella missiva, dei vicentini truffati riaveri i propri soldi, ma è anche un interesse di tutti che li ottengano. Intanto a Padava incontro tra alcune associazioni dei risparmiatori, tra cui Ezzelino III Daonara e i rappresentanti della CONSAP, riunione nella quale si è fatta chiarezza su molti aspetti tecnici, tra cui il timore che le prime 4.000 domande fossero state cancellate con la modifica del portale. Tutte le domande già inviate, nessuna delle domande è stata cancellata o si è perduta. Tutte le domande sono archivate in cloud, quindi verranno tutte analizzate, tutte istruite e tutte esitate con evidentemente un esito positivo. Nel sito CONSAP si possono trovare tutte le informazioni ed eventuali novità e un contact center è a disposizione per chiarimenti. Ma si ricorda che le domande vengono avviate per via telematica e quindi anche le risposte ed eventuali rigetti o richieste di altra documentazione. Pertanto è fondamentale controllare la propria casella mail. Soddisfatte le associazioni, anche se resta ancora un nodo cruciale che va sciolto. Noi abbiamo sollecitato CONSAP a iniziare i pagamenti delle pratiche che hanno già verificato, cosa che faremo anche col governo. Noi abbiamo sollecitato CONSAP a iniziare i pagamenti delle pratiche